Fuori i privati dalle aziende per il profitto, ridateci i nostri diritti, la nostra dignità! Il governatore della Liguria, Toti, che ha composto un tavolo sindacale per ascoltare le motivazioni e per capire quale sono le ragioni della mobilitazione dei lavoratori. Speriamo che Toti faccia come ha fatto Burlano nel 2013 su AMT, dove grazie al suo intervento ha sbloccato la situazione allora. Speriamo che la regia di Toti ci permetta di sbloccare la situazione di ATP. Un dato importante è che il sindaco di Genova non ha chiuso le porte in faccia ai lavoratori e non sta formando un tavolo di dattative, mentre Toti di centro-destra ha più sensibilità convocando le parti sociali. Un commento anche sulle parole del sindaco nei vostri confronti? Da un sindaco si aspetta sempre delle parole che siano di responsabilità e non di chiusura totale, visto che è la responsabilità di governare non solo la città di Genova, ma anche la responsabilità e l'onore di governare la città metropolitana, l'ex provincia di Genova e quindi dovrebbe, secondo me, usare toni e termini un po' più accoglienti. La cosa brutta è che continua questo braccio di ferro che vuole il sindaco nei confronti dei lavoratori e da un sindaco sicuramente di centro-sinistra si aspetta dell'altro.